Sul podio del Festival di Sanremo anche il direttore d'orchestra abruzzese Enrico Melozzi insieme ai Maneskin, i vincitori della 71esima edizione della Kermess Canora che hanno donato a lui i bouquet di fiori ricevuti. È stato un modo simbolico per ringraziare lui e tutti i musicisti che hanno partecipato al Festival. Enrico Melozzi è un compositore, violoncellista, produttore teramano e ormai un veterano del Festival della Canzone Italiana dove ha esordito nel 2012 contribuendo con la sua orchestrazione e direzione al terzo posto di Noemi con Sono Solo Parole terzo posto l'anno scorso anche per i pinguini tattici nucleari con Ringo Starr e quest'anno la vittoria che come ha scritto sulla sua pagina Facebook non lo ha colto di sorpresa infatti si legge che serata, che notte, che viaggio, me lo sentivo grazie a tutti è un'emozione bellissima, questa volta all'alba avrò già vinto e lo ha scritto parafrasando il celeberrimo brano Nessun dorma tratto dalla Turandò di Giacomo Puccini.